musica ehi ragazzi, io ho una buona video e io sono Cristian e noi siamo i Telebrothers oggi ragazzi amiamo a me io ti spieggo all'olio già che ci sia dentro il formaggio non mi ispira vedremo se sarà buona o buona iniziamo 200 grammi di biscotti di questo tipo sbricioliamo i biscotti col mattarello musica 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 mettiamo a muolo 10 grammi di gelatina musica 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 50 ml di panna fresca musica 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 200 grammi di formaggio spalmabile Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 100 ml di succo di limone 100 ml di succo d'arancia 70 grammi di zucchero 15 grammi di amido di mais È l'ora dell'assaggio Assaggiamo sta cheesecake E' buona Allora E' buona Voto Ieri Sembra un bollino azzurriato Niente ragazzi Per oggi il video si riesce a qui Speriamo che vi stasera tutto Guardate nei commenti Diteci se avete provato anche voi A fare la torta E diteci com'è venuta Allora ci vediamo alla prossima Prego! Ciao! 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 Ciao!